Questa iniziativa è organizzata per coloro che sono in linea online, organizzata dallo Zenzero, dall'Ecoistituto di Genova e Reggio Emilia e abbiamo deciso che questo ciclo di incontri oggi è il primo di quattro incontri già previsti, potrebbero seguirne poi se necessario altri in futuro, di cui poi vi diremo mano a mano il programma e la cadenza, che riguardano la salute e la sanità e in particolare la sanità territoriale. Noi in questi quattro incontri ci vorremmo occupare soprattutto della sanità territoriale. Dicevo prima che il Covid ha provocato uno shock e un'attenzione al servizio sanitario che era fuori dall'attenzione senz'altro del mondo politico e delle istituzioni, ma probabilmente anche della cittadinanza stessa, che non si rendeva conto come il servizio sanitario pubblico stesse continuando ad essere depauperato di risorse, chiusure, mancate assunzioni, diminuzioni di personale e così via. In questo periodo gli spazi lasciati vuoti dalla sanità pubblica venivano sempre e vengono sempre subito occupati da parte dei privati, che si avvalgono anche dei finanziamenti pubblici, si accapparono nel personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, continuano a fiorire le assicurazioni sanitarie integrative, purtroppo per dei bisogni, visto che il pubblico non garantisce certe risposte, le assicurazioni sanitarie integrative che usufruiscono della detassazione, quindi sottrazione di denaro per il servizio sanitario pubblico, oltre alle prestazioni a pagamento diretto per i cittadini che continuano ormai a essere sempre di più, a partire dai ticket che sono già molto onerosi, alle prestazioni private vere e proprie a cui spesso è necessario rivolgersi se non si vogliono aspettare tempi di attesa enormemente lunghi. Il risultato che ha portato a questa situazione è che già adesso una fetta considerevole di popolazione rinuncia alle cure per difficoltà economiche. Tanto per un accenno soltanto, il disegno di legge sull'autonomia differenziata regionale, oltre a spaccare il Paese, amplificherà le disuguaglianze in materia di diritti sociali e in particolare in materia di tutela della salute. Il nostro obiettivo è, riusciremo, la nostra domanda è, riusciremo a difendere e a rilanciare il servizio sanitario pubblico, un servizio sanitario di qualità, capace di umanità, ed è una parola che non uso a caso, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini. Tutto il servizio sanitario pubblico è in affanno. Noi però abbiamo scelto in questi nostri incontri di occuparci in particolare dell'assistenza territoriale, che è ormai quasi completamente assente nel nostro Paese. Il processo di rinnovamento della sanità territoriale, come ci ricorderà sicuramente il dottor Brasesco, da un punto di vista teorico e laborativo, è in corso da, ormai da molti anni, dei casi della salute, anche in testi di legge, di presa in carico della tutela della salute del cittadino, se ne parla da diversi anni, di un completo inserimento dei medici di famiglia nelle strutture del servizio sanitario nazionale, un completo inserimento e non l'attuale situazione di che non si capisce bene se sono dentro o se sono fuori, se sono liberi professionisti, se sono parte del sistema. Ma poi non solo, la figura dell'infermiera di famiglia o di comunità, tutte queste cose sono riuscite a diventare parte del quadro istituzionale e normativo del nostro Paese. In particolare il decreto 77 del 2022, di cui poi il dottor Brasesco ci parlerà in maniera più diffusa, ci indica come oggi è previsto dalla legge dello Stato che le case della salute che oggi sono diventate, non a caso, case della comunità e il dottor Brasesco ci spiegherà la differenza, le centrali operative, l'assistenza domiciliare, eccetera, dovrebbero essere parte del servizio sanitario del servizio sanitario nazionale pubblico. Tuttavia, per motivi di definanziamento, di sottofinanziamento, il fatto che il, per esempio, tanto per dirne una, le case della salute e le nuove strutture, l'assistenza territoriale sono finanziate dal PNNR, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, soltanto per la parte strutturale e non per esempio per la parte corrente, per la parte del personale, che è la parte più importante, perché voi capite, e ne siamo tutti chiaramente convinti, che i muri vuoti non ci bastano per essere curati. Vi dicevo, sono finanziati però, per esempio, c'è una carenza di finanziamento, appunto, proprio per il, per esempio, per il personale. Una carenza di volontà politica, bisogna dirlo chiaramente, oggi come oggi assistiamo al fatto che il decreto 77, che prevedeva 1300 case di comunità in tutto il territorio nazionale, è stato ridimensionato, per cui se ne prevedono soltanto 900, e le altre ci promettono che forse prima o poi ce la faremo a farle avere, ma intanto noi non vediamo neanche una, perché è di ieri, non so chi segue, è un addetto ai lavori e segue queste cose, ha visto come Agenas, l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali, ha pubblicato i dati sulla situazione della realizzazione delle nuove strutture di sanità territoriale e sono veramente desolanti. Tra tutte, sono la minima parte delle regioni, tutte quelle del sud non ne parliamo, la minima parte delle regioni che hanno cominciato a realizzare qualche cosa, la Liguria fa parte delle regioni del sud, visto che non c'è nessuna casa della comunità funzionante, ne sono previste nel piano sanitario 32 o 33, in alcune pagine c'è scritto 32, in alcune pagine c'è scritto 33, ne sono previste, dicevo questo numero, sono previste un certo numero di ospedali e di comunità, sono previste le centrali operative territoriali, però tant'è che non sono realizzate. L'unica cosa che è stata realizzata è un ospedale di comunità, quello di Levanto, ma soltanto perché la vecchia RSA pubblica ha cambiato di etichetta, hanno cambiato il cartello, adesso lo chiamano ospedale di comunità. Per cui la Liguria purtroppo, e ci dispiace dirlo, non lo facciamo certamente con piacere, ha dei grossi ritaldi in questa materia. Vi dicevo, mancato finanziamento, mancata volontà politica, e poi bisogna dire una terza cosa, secondo me bisogna avere il coraggio di dirlo, interessi corporativi della categoria medica, la quale ha, certe volte, forte resistenza. I medici di medicina generale hanno forte resistenza a lavorare dentro le case della comunità. I medici ospedalieri hanno forte resistenza a non svolgere la libera professione, la libera professione intramenia, che è un conflitto di interesse tra il pubblico e il privato all'interno delle stesse persone. Vi dicevo, quindi le difficoltà sono enormi, non possiamo negarcele, però siccome ciò di cui parliamo è talmente importante, sono le condizioni del nostro futuro, della nostra salute, della nostra vita, e non è un'esagerazione di quello di cui stiamo parlando, io credo che sia necessario da una parte rendersi conto come queste nuove strutture sanitarie potrebbero cambiare realmente i bisogni sanitari della cittadinanza, nostri, eccetera. E dall'altra parte c'è bisogno di una affermazione cosciente della volontà dei cittadini di questi cambiamenti. Chiudo dicendo che se voi avete notato la locandina con cui abbiamo presentato questa iniziativa ha in fondo la dicitura in cui si dice che lo Zendero e il Costituto aderiscono al fronte comune per la difesa della sanità pubblica. Per fortuna si sta creando a livello ligure, non solo genovese, un momento di incontro, di dialogo tra le associazioni dei cittadini, tra i sindacati, non tutti purtroppo, la CGL in particolare sì invece, i partiti di opposizione stanno realizzando un fronte comune per la difesa della sanità pubblica che farà una presentazione ufficiale tra pochi giorni e ve ne daremo notizia e che si pone l'obiettivo di organizzare momenti di rivendicazione e di lotta per realizzare questi obiettivi. Io chiudo questo mio incontro, questa mia presentazione iniziale, scusatemi, dicendo che ci saranno, questo è il primo dei tre incontri, dobbiamo fissare ancora esattamente la data, il secondo sarà presumibilmente, quasi sicuramente, però dobbiamo avere una conferma tra un mese, il 18 di ottobre, e avremo con noi il dottor Andrea Giurlini, che è il responsabile di una casa della comunità. Antonio, scusami, magari questo lo diciamo più avanti in chiusura, non dire tutto. Sto rubando il lavoro alla Maria Teresa. Noi ti vediamo poi, c'è la positiva Sanità e Salute e quindi siamo... Per favore, scusatemi, se no non riusciamo ad andare avanti. Ci sarà il terzo incontro dedicato alla figura del medico di medicina generale e il quarto all'infermiere di comunità. Io adesso do la parola a dottor Brasesco, vi dico che dopo l'intervento dottor Brasesco daremo la possibilità a chi vuole del pubblico di intervenire, di fare domande. che è collegato online, se vuole aggiungere qualcosa può farlo, però per una questione organizzativa lo facciamo soltanto attraverso la chat e Maria Teresa, che avete sentito che è alle mie spalle, vigila, in maniera... ce li leggerà e rivolgerà le domande ai nostri delattori. Bene, io vi ringrazio e passo la parola a dottor Brasesco. Qui c'è la telecamera, no? Allora, intanto vi saluto, saluto una folta schiera di miei ex pazienti e alcuni amici. Visto che ho cessato la mia attività di medico di famiglia o medico di medicina generale proprio venti giorni fa. Vorrei dire... Sono qua per fare due cose che sono scritte di sotto, sotto il titolo in grande, cioè parlare un attimino più approfonditamente di quello che dovrebbero essere i cambiamenti a livello anche proprio di strutture, cioè le nuove strutture di assistenza territoriale e del servizio sanitario pubblico, di cui praticamente non si parla a livello mediatico, cioè non mi risultano che ci siano trasmissioni che ne parlano, salvo accenni molto generali sulle difficoltà a implementare queste strutture. L'altra parte è l'esperienza di un medico di medicina generale intesa nel senso che serve dire due parole su me stesso, diciamo, per capire un po' da dove si parte. Allora, intanto si parte dal 1978 che è l'anno in cui è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale con la legge 833. Non so quanti di voi lo ricordano o lo sanno, ma questa legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ha segnato uno spartiacque notevole perché prima di questa legge sul territorio diciamo i medici di famiglia che forse allora non si chiamavano neanche così erano convenzionati con mutue diverse della mutua dei marittimi, la mutua dei ferrovieri, la mutua di altre, di varie categorie. con questa norma, con questa legge 833 si è istituito un unico Servizio Sanitario Nazionale e quindi i medici di famiglia sono diventati convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Convenzionati vuol dire che è una specie di matrimonio perché è un atto di accordo. naturalmente nei nostri tempi di matrimonio si può anche fare il divorzio quindi diciamo non è una cosa per la vita e poi come sappiamo tutti i matrimonio non vanno tutti bene e così succede per quanto riguarda per quanto riguarda l'attività del medico di famiglia convenzionato. Questo è uno dei motivi anche di criticità diciamo dei servizi territoriali a cui accennava Antonio prima. personalmente io ho sempre un po' cercato come dire di creare nell'ambito piccolo in cui lavoravo cioè il mio studio e poi lo studio di medicina di gruppo in cui per almeno 30 anni in varie medicine di gruppo ho lavorato ho cercato di creare una situazione di servizio ai pazienti il più possibile il più possibile strutturata quindi questa situazione non è da tutti non è per vari motivi perché bisogna trovarsi in un contesto adatto cioè con dei colleghi di buona volontà diciamo così e con il supporto comunque della AS che non sempre è presente dal punto di vista economico perché mettere in piedi un servizio di segreteria un servizio di infermeria delle attività diagnostiche di base eccetera ha un costo ovviamente che è previsto sia supportato dalla AS ma negli anni o nei decenni diciamo io ricordo che sono stati posti dei tetti cioè la regione diceva sì queste indennità ve le diamo ma solo il 40% dei medici dopodiché chi rimaneva fuori rimaneva fuori ricordo per esempio che la AS 2 da anni non concede non concede indennità da questo punto di vista quindi diciamo chi come me ci sono altri medici a Genova e anche in Liguria che hanno questo tipo di esperienze in qualche modo hanno cercato fra virgolette di anticipare un pochino un pezzo di questo nuovo sistema ma non è bastato non è bastato tant'è vero che con il Covid diciamo queste criticità si sono queste difficoltà si sono evidenziate in maniera veramente notevole per cui ci sono stati cittadini pazienti che non sono riusciti più a contattare i propri medici anche per mesi e mesi a quanto mi risulta e via dicendo oltre al discorso delle liste d'attesa e via dicendo allora a questo punto dopo aver detto queste brevi cose che mi riguardano un po' direttamente passo naturalmente vediamo un attimo se riusciamo ecco allora diciamo che abbiamo immaginato qui vedo di spostare questa roba qui perché non si vede se no questo lo posso chiudere no c'è un problema di visibilità della comunque l'idea era di fare una specie di vocabolario cioè piccolo vocabolario di alcuni termini che da ora in poi diciamo così o comunque in questo periodo e nei prossimi mesi sentirete sentiremo nominare in in diverse occasioni anche perché come giustamente diceva Antonio è uscito questo report di questa di questa Agenas che è l'agenzia nazionale che si occupa del monitoraggio del monitoraggio del sistema sanitario nel suo complesso e dei sistemi regionali è uscito questo questo monitoraggio in cui si dice che praticamente le case della comunità sono al palo nel senso che sono rispetto a quello che doveva avvenire in questi mesi sono pochissime in poche regioni e prive del personale principale che dovrebbero essere gli infermieri di comunità i medici di famiglia i pediatri di libera scelta allora quindi dicevo continua a non funzionare ecco la prima la prima slide questo se si potesse togliere ah basta quello e questo invece non ne facciamo bravo sì va bene va bene allora non so se si legge qua poco ma ve lo leggo io nel senso che poi alla fine le parole chiave sono chiamiamo le parole chiave sono tre DM77 cioè il decreto ministeriale del 77 che è stato già citato e dal quale diciamo viene tutto il nuovo impianto diciamo dell'assistenza territoriale la data il 22 di giugno 2022 quindi sono già passati un anno e un po' e il fatto che questo decreto è stato sottoscritto non solo dal ministro della salute ma anche dal ministro dell'economia e questo è importante perché evidentemente il ministro dell'economia è quello che ci mette i soldi diciamo così anche se una buona parte di soldi ce li mette d'Europa attraverso il piano PNRR tuttavia come dire questi soldi passano dal ministero delle finanze questa è l'allegato del DM77 che si intitola modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale quindi come capite si parla proprio di una nuova assistenza di territorio e come vedete dalla freccia è finanziato dall'Unione Europea Next Generation Europe Allora questo allegato io ho estratto qualche riquadro da questo allegato che è ponderoso diciamo non so penso che sia più di 100 pagine però diciamo la prima cosa interessante è che si parla di programmare l'attività del territorio attraverso alcuni strumenti che sono la medicina di popolazione la sanità di iniziativa e il progetto di salute in due parole cosa vuol dire vuol dire che si utilizzano le conoscenze diciamo che ci sono a livello statistico e epidemiologico cioè le conoscenze che attraverso l'Istat e attraverso altri strumenti si hanno sulla popolazione per definire chi ha bisogno di che cosa dalle persone che hanno già delle malattie a quelle che croniche a quelle che invece stanno bene e hanno bisogno magari solo di prevenzione il modello per fare questo questa attività che chiamiamo presa in carico cioè sostanzialmente considerare ciascuno di noi come qualcuno che deve essere appunto preso in considerazione nella sua situazione di salute più o meno presente lo strumento è la cosiddetta sanità di iniziativa anche qui è un termine non nuovo perché per esempio in Toscana sanità di iniziativa è stata sviluppata anche abbastanza diciamo nel decennio scorso però sono cose che sono rimaste diciamo comunque confinate a una regione o due regioni e anche un po' l'Emilia Romagna e comunque solo ad alcune aree quindi chiamiamole un po' sperimentazione stratificazione della popolazione per profili di rischio vuol dire che il ministero sa che in Italia ci sono tot milioni di diabetici tot milioni di persone con la pressione arteriosa tot milioni di pazienti che hanno una cardiopatia una malattia cardiaca e via dicendo allora saperlo non basta anche tot pazienti con neoplasia con tumori saperlo non basta bisogna secondo questi concetti che sono molto molto belli diciamo così avere un progetto cioè di salute individualizzato quindi questi termini sono quelli che sono alla base della cosiddetta riforma allora la cosiddetta riforma prevista in questo decreto ministeriale prevede intanto che il distretto sia un po' riorganizzato allora il distretto non so quanti di voi sanno cos'è il distretto socio-sanitario qui noi siamo nel distretto numero 12 la sede del distretto di questa zona è via Archimede quindi quando voi andate per qualche motivo in via Archimede andate al vostro distretto se abitate in questa zona i distretti sono in funzione da tantissimi anni io siccome sono a certa età mi ricordo anche che negli anni nei decenni passati ci sono state varie discussioni anche a livello regionale su come doveva essere il distretto il distretto forte il distretto debole erano termini che volevano rinforzare la funzione di questo distretto che in realtà non è mai stato rinforzato quindi qui parlo della Liguria ma in generale addirittura in Lombardia i distretti sono stati aboliti vent'anni fa quindi perché il sistema Lombardo praticamente non ha la AS non ha il distretto però adesso diciamo stanno ritornando allora qui il distretto in breve è un'entità che dovrebbe coprire circa 100.000 abitanti e dentro questa entità in cui c'è un direttore di distretto che c'è anche adesso la programmazione deve prevedere una casa della comunità hub cioè grossa diciamo così con molti servizi ogni 50.000 abitanti quindi nel nostro distretto 12 sono previste due case della comunità credo di essere quasi sicuro che una dovrebbe essere via Archimede e l'altra struppa da Doria case della comunità SPOC e ambulatori di medicina generale pediatri di libera scelta allora questo diciamo è un concetto che fa riferimento appunto al fatto che i medici di famiglia non siano più così in libera in campo libero non so come dire a pascolare ognuno per conto proprio o al massimo in medicina di gruppo ma siano tutti in rete in rete oggi vuol dire in rete telematica cioè in condivisione delle cartelle cliniche per cui io ho lo studio qua con dei colleghi e siamo in rete ma anche dovrei essere in rete con i colleghi di Via Donghi piuttosto che con i colleghi di Corso Sardegna questo non è non è oggi e si è auspica che sia domani con questa riforma l'infermiere di famiglia di comunità è una figura del tutto nuova per la quale tra l'altro l'Università di Genova ha proprio attivato un master universitario da un po' di anni e quindi ci sono cominciano a esserci queste figure che al momento a mio sapere in realtà fanno un'attività quasi sostitutiva dei medici di famiglia dico quasi perché non è ovviamente non è possibile che sia così to cure in zone carenti delle vallate allora sono già attivi da qualche anno in Val Trebbia so che c'è un progetto in Valle Scrivia e credo anche nell'altra vallata di là no non vale bormida perché quella è Savonese la Val la Vostiglione quella se non mi ricorda la Vallestura grazie ecco allora l'infermiero di famiglia dice uno ogni 3.000 abitanti già qua abbiamo dei problemi allora abbiamo qualche problema dicevo prima con i medici di famiglia che comunque a oggi sono carenti e saranno carenti ancora perché quelli come me che vanno in pensione non sempre vengono sostituiti voi siete stati fortunati perché ho trovato un sostituto allora ma infermieri di famiglia comunità non ne parliamo proprio perché ogni 3.000 se mi fate il conto ma su 100.000 abitanti ce ne vogliono 30 3.9 brava sì anche di più 30 moltiplicate eccetera non ci sono sicuramente al momento un inciso l'infermiere a cui accennavo prima quello che opera nello studio medico adesso di medicina di gruppo non è l'infermiere di famiglia o comunità perché è l'infermiere che opera in 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 accordo diciamo con con i medici di quel gruppo qui invece parliamo di un infermiere che è strutturato nella nel distretto diciamo nella casa della comunità e che ha dei compiti precisi che adesso non sto a come dire spiegare perché se no unità di continuità assistenziale andrei andrei oltre centrale operativa territoriale questa è qualcosa che non esiste che dovrebbe essere il quanto meno una specie di centralino diciamo così o comunque di sportello dove ciascun cittadino che ha bisogno di un'ampia fascia di servizi si può rivolgere e si deve rivolgere poi c'è ospedale di comunità che è invece una struttura residenziale per situazioni temporanee faccio un esempio classico una persona molto anziana che è sola in casa che quando sta bene se la cava se si prende una polmonite non ha chi la possa curare finisce in ospedale finisce in ospedale San Martino in realtà se ci fosse un ospedale di comunità finirebbe in un ospedale di comunità dove non ci sono le strutture di San Martino che non sono in questo caso necessarie ma c'è l'assistenza necessaria a parità diciamo di ricovero il costo di questa cosa è molto molto minore ovviamente quindi casa della comunità luogo fisico e di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere per i bisogni di assistenza sanitaria sociosanitaria valenza sanitaria questo ripete quello che abbiamo detto prima infermiere di famiglia è quello che vi dicevo prima qui possiamo approfondire un attimo assicura l'assistenza infermiaristica a diversi livelli di complessità in collaborazione con tutti i professionisti ora queste queste sono un po' parole diciamo però diciamo sostanzialmente affianca e integra la presa in carico che vi dicevo prima anche del medico di famiglia centrale operativa questa dovrebbe essere una ogni 100.000 abitanti quindi dovremmo fra qualche anno almeno sentire sapere quale sarà la centrale operativa di questo distretto come degli altri distretti dove c'è uno standard di personale anche qui coordinatore infermieristico 3-5 infermieri due unità di supporto quindi è evidente che qui l'obiettivo della COT è quello di assicurare la continuità l'accessibilità l'integrazione all'assistenza sanitaria e sociosanitaria tradotto vorrebbe dire che anziché andare l'ufficio A all'ufficio B all'ufficio C nel posto via Chimede piuttosto che da un'altra parte si dovrebbe poter accedere anche telefonicamente o telematicamente con le proprie richieste a questa centrale operativa questa è un'altra centrale operativa prevista dalla dalla riforma che si chiama 116-117 che serve per dice le cure mediche non urgenti offre un servizio telefonico gratuito alla popolazione attivo 24 ore su 24 7 giorni su 7 diciamo che equivale un po' alla guardia medica ma solo in parte perché adesso voi sapete che la guardia medica che non è il 118 la guardia medica funziona almeno qua solo per domicilio non esiste un ambulatorio di guardia medica ancorché dovrebbe esistere alla Spezia per esempio esiste l'ambulatorio e i turni sono fatti da due medici uno che va a domicilio e l'altro che sta in ambulatorio per cui se io notte e festive esatto per cui se ho bisogno sia di ricette che di qualsiasi cosa e non trovo il mio medico di famiglia a Spezia già oggi posso andare diciamo negli orari dalle 8 alle 20 e festivi e prefestivi posso andare alla guardia medica a Genova no posso chiamare trovare spesso e volentieri occupato e non riuscire a contattare comunque la guardia medica perché è satura qui il concetto è ampliato perché in realtà l'ambulatorio e la centrale operativa è aperta H24 7 su 7 quindi vuol dire che bisogna nella casa della comunità organizzare un ambulatorio H24 e 7 su 7 auguri assistenza domiciliare si parla sempre di assistenza domiciliare io francamente per le cure domiciliari di questa nostra AS devo dire che sono sempre state abbastanza efficienti rispetto al resto della Liguria però sono anche state in calo in calo di personale diciamo negli anni quindi un po' in difficoltà naturalmente qua se ne parla a livello nazionale so che ci sono regioni dove la centrale operativa non esiste per la comunità ve l'ho già citato ecco telemedicina è un'altra parola diciamo chiave che viene molto enfatizzata nel senso che si dice il futuro sarà la telemedicina eccetera telemedicina è vero ma non è l'unica cosa ovviamente e comunque richiede un sistema appunto di rete informatica efficiente che consenta di sostanzialmente poter avere due tipi di servizi o una telemedicina come viene citata qua professionista sanitario assistito quindi una consulenza o col medico di famiglia o con lo specialista diretta con la persona interessata oppure un rapporto di consulenza fra professionisti che è come dire se io medico di famiglia ho un problema ho un paziente con un problema di tiroide e ho una difficoltà interpretativa non so come procedere invece di mandare il paziente dall'endocrinologo poiché la domanda è molto semplice e si può rispondere vedendo delle analisi posso connettermi con uno specialista endocrinologo e avere diciamo così il parere anche queste sono sempre mondo dei sogni diciamo perché non sono cose nuove queste telemedicina in realtà è da anni che sarebbe attivabile ma poi ci sono le varie difficoltà che lo impediscono con questa slide avrei concluso la mia relazione e se ci sono delle domande passo ti chiederei anche di chiudere la condivisione perché mi chiedono se è possibile vedervi grazie allora se abbiamo la possibilità di per le persone in sala di fare delle domande però devono parlare devono venire qui a parlare al microfono se no quelli lontano non riescono a sentire dovreste scusami Antonio dovreste aprire il video del computer aps zenzero perché è disattivato una cosa brevissima volevo chiedere a per Claudio che se per favore mi spiega la medicina di iniziativa o sanità di iniziativa in che cosa consiste perché non lo so non ci prendiamo che non lo sai ma sono altre domande? buongiorno dottore allora volevo sapere questo ultimamente in televisione passano delle notizie secondo me fuorvianti che le case di comunità gli ospedali di comunità non partono per delle resistenze fatte dai medici dai medici di base chiaramente è un metodo per superare il problema comunque volevo sapere anche la sua idea e poi un'altra cosa ad esempio anche in regione Liguria si dice che il problema delle liste di attesa si supera semplicemente perché i medici prescrivono in maniera non appropriato quindi trovando l'appropriatezza della prescrizione le prescrizioni diventerebbero molto più basse e quindi risonanza ecografia si potrebbero fare nei tempi giusti e volevo sapere che cosa ne pensa lei visto che sono due motivi abbastanza seri grazie della domanda qualcun altro se no rispondiamo devi venire qua però no volevo capire se la la casa di comunità sostituirebbe il medico di famiglia cioè se si 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 oppure rimane la casa di comunità per le cose per l'esigenza extra e si mantiene è chiarissima la domanda è chiarissima allora allora domanda utilissima anche questa ma tutte e quattro allora medicina di iniziativa allora diciamo chi è qui tra i miei ex assistiti forse si ricorda che qualche volta è stato magari chiamato per per fare qualche iniziativa di prevenzione allora medicina di iniziativa fa il paio diciamo con la presa in carico nel senso che ad oggi la maggior parte di noi adesso dico come medico di famiglia lavora in questo modo con il cellulare acceso andando in studio prendendo gli appuntamenti e vedendo le persone e sentendo le persone che hanno problemi di vario tipo dal certificato di malattia alla colica venale diciamo questa si chiama medicina non di iniziativa ma di attesa perché stiamo lì aspettiamo giorno per giorno l'iniziativa significa invece come dicevo prima sapere dai propri archivi di avere 100 pazienti col diabete e organizzare programmare diciamo una chiamata per fare un controllo soprattutto su quelli che i controlli non li fanno perché ovviamente non siamo tutti uguali e per vari motivi su 100 persone con il diabete 50 sono controllate e 50 sono fuori controllo un po' perché non riescono a tenere come dire la dieta cose del genere un po' perché hanno paura di fare gli esami magari non li fanno e parlo per esperienza perché io questo tipo di cose l'ho provata a fare in forma sperimentale negli anni quindi la medicina iniziativa è questo è anche proporre la vaccinazione piuttosto dell'influenza piuttosto in maniera attiva piuttosto che quella del contro la polmonite o contro l'herpes zoster e via dicendo direi più o meno questo significa poi ci sono tante altre forme ma il concetto dell'iniziativa è appunto partire dai dati che si diceva nella slide iniziale del DMS 77 cioè del profilo diciamo di salute di ciascuno e per ciascuno prevedere un'iniziativa per fare questo ovviamente bisogna avere tempo e risorse umane nel senso che quello che dicevo prima la medicina di attesa assorbe già molto del molto del tempo se poi ci aggiungiamo anche le attività di visite domiciliari diciamo molto tempo della giornata del medico di famiglia quindi diciamo che l'idea di avere questa per esempio l'infermiere di famiglia e avere del personale in più diciamo che aiuta i medici e metterli in rete tutto questo dovrebbe portare poi a un'effettiva medicina iniziativa però lo vedremo resistenze dei medici di famiglia allora non è del tutto errato in realtà non è l'unico motivo per cui non si parte diciamo così leggevo di recente due posizioni diciamo una del presidente nazionale dell'ordine dei medici che diceva che dice che comunque il passaggio perché l'esistenza sarebbe relativa al tipo di rapporto di lavoro se essere convenzionati come vi dicevo prima o essere dipendenti diciamo che è evidente che il medico convenzionato ha maggiori spazi di libertà in teoria rispetto al medico dipendente di libertà di organizzazione e talvolta anche di libertà di disorganizzazione quindi francamente se devo dirla tutta nell'ambito pubblico non credo che siano tutte rose e fiori non credo che la dipendenza possa risolvere però diciamo che comunque può essere un tentativo di soluzione il ministro della salute che abbiamo attualmente ha infatti detto che punterebbe al passaggio alla dipendenza dei medici di famiglia però qui mi ricollego un po' alla domanda della sì perché diciamo che il primo problema che si pone è voi immaginate quanti studi medici ci sono in città non sono sicuramente i numeri delle case della comunità che sono a Genova dovrebbero essere una ventina una quindicina saranno a dire io almeno penso 250 studi medici allora questi sono gestiti in autonomia dai medici di famiglia se dovessero come si auspica e come è anche scritto nel decreto ministeriale mantenere questa capillarità il sistema sanitario dovrebbe farsi carico di gestire tutti questi studi che non è una cosa che vuoi fare dall'oggi al domani esiste un modello di passaggio diciamo dalla convenzione alla dipendenza che è quello portoghese in portogallo i portoghesi di solito vengono nominati come i portoghesi che salgono sull'autobus in realtà i portoghesi hanno incominciato la riforma del sistema sanitario territoriale 20 anni fa quando noi non ne parlavamo neanche negli anni 90 e nell'arco di una decina di anni sono passati i medici erano convenzionali sono passati quasi tutti alla dipendenza hanno avuto anche la loro convenienza però è un processo che richiede tempo oggi vi dicevo ma allora durante il covid il portogallo era portato ad esempio come uno dei pochi paesi europei che era riuscito a sostenere al meglio diciamo l'impatto quindi sì io ho sentito anche è una cosa interessante diciamo che dicevo il sindacato maggioritario diciamo dei medici di famiglia è contrario alla dipendenza ma c'è ci sono degli altri sindacati che invece stanno ragionando dei medici di famiglia che stanno ragionando su questa cosa e devo dire che i giovani medici spesso sono favorevoli a questo scusa Piercordio sono Maria Teresa online su questo potresti precisare meglio la casa di comunità Spok tu dicevi rispetto al numero di medici di famiglia che ci sono 250 non è certo coincidente con la casa di comunità però Ab Spok potresti pensare meglio grazie ci sono due domande hai ragione finisco con il primo giro perché c'era le liste d'attesa e le prescrizioni allora diciamo che il problema della lista d'attesa è abbastanza complesso sicuramente sicuramente c'è qualche aspetto di non appropriatezza della prescrizione ma diciamo che il grosso non è quello in ogni caso ad oggi il tentativo è stato sempre quello di aumentare i volumi di offerta sostanzialmente la nostra regione ha finanziato un tot di esami anche attraverso i privati i privati convenzionati nel modello che vi ho cercato di illustrare molti di questi esami dovrebbero essere fatti attraverso le case della comunità e quindi in teoria dovrebbero aiutare anche ad abbattere queste liste d'attesa però è tutto un mondo molto nebuloso a mio parere la casa della comunità SPOC è sostanzialmente formata in forma virtuale o in forma reale dai medici che sono negli studi territoriali cioè i medici di famiglia in questo sistema dovrebbero da una parte continuare a lavorare nei propri studi essere in rete nel senso di condividere le cartelle in primis le cartelle cliniche ma poi magari condividere anche i dati con l'ospedale con il pronto scorso e vi dicevo e fornire ai propri assistiti nella misura diciamo nella dimensione diciamo circa di 20.000 assistiti per casa della comunità SPOC fornire una serie di servizi che sono l'elettrocardiogramma la spirometria l'ecografia di primo livello e via di c'è magari della consulenza specialistica in telemedicina eccetera tutte queste cose dovrebbero avvenire nella casa della comunità SPOC che quindi è un livello un po' più basico in quella hub invece si dovrebbe andare per fare la TAC piuttosto che la risonanza piuttosto che la consulenza vera e propria con uno specialista l'ortopedico per esempio piuttosto che ginecologo eccetera più o meno questo dovrebbe essere il dottor Piotti può dire vado là ecco io voglio dire solo brevemente un esame di realtà di quello che è in Liguria la situazione e ricordare che c'è stato c'è e tuttora è molto significativo e deve essere interpellato e seguito l'esempio del Portogallo ma non è l'unico paese in Europa in cui esistono una medicina territoriale che sta molto sopra quella che si vede in Liguria ma quello che è più strano e bisogna che ci rendiamo conto è che in Liguria non ci sono le case di salute allora che cosa introduco qua la casa di salute è dal 2010 una realtà non maggioritaria ma molto significativa in Emilia Romagna e in Toscana allora in Toscana siamo su 120 case di salute e in Emilia Romagna siamo su 84 case di salute cosa significa in termini di ricaduta sull'assistenza significa che circa il 40 e adesso non ho i dati più recenti quindi potrebbe anche essere passato in modo più positivo al 50% dei residenti in Emilia Romagna per esempio è coperto dalle case di salute che naturalmente includono al loro interno tutte le forme associative di cui parlava il dottor Brassesco dei medici di medicina generale dei pediatri di libera scelta e questi medici di medicina generale e di libera scelta che stanno in Emilia Romagna anche loro continuano nella purtroppo maggioranza a essere gelosi del loro modo di funzionare secondo un contratto libero professionale e con delle forme di aggregazione e aiuto reciproco nella gestione dei medici che non è assolutamente soddisfacente ma per il 40% i medici in Emilia Romagna che fanno che si relazionano a queste 80 o 85 case della salute funzionano in una forma aggregata e si riferiscono alla casa della salute perché perché la casa della salute è un po' quello che diceva il dottor Brassesco per fare una gestione efficiente ed efficace delle malattie croniche che sia per l'anzianità sia per il profilo epidemiologico di noi italiani sono ormai assolutamente la maggioranza ci vuole una collaborazione e un'integrazione del team dell'equip cioè di forme che non solo siano associative da parte dei medici che buttano giù la indipendenza e come posso dire questo stato ambulatorio come monade io faccio nel mio rapporto con i malati quello che voglio e si potrebbe dire quello che posso ma invece una forma di funzionamento che include dall'assistente sociale allo psicologo all'infermiere che fa l'assistenza domiciliare all'infermiere di comunità all'infermiere che gestisce la malattia cronica insieme al paziente e quei livelli di rischio di cui parlava il dottor Brasesco perché non siamo tutti uguali quando abbiamo una malattia siamo differenziati abbiamo dei profili di rischio assolutamente differenti e per poter entrare in una in una funzione proattiva che anticipa l'aggravamento che anticipa la decadenza della della malattia se non hai un team non può una persona medico da solo fare tutte le funzioni di prevenzione e di follow up che è necessario ecco forse ho speso un po' più di parole di quelle che avevo inizialmente intenzione di dire ma la casa di salute praticamente quello che volevo dire è che noi qua in Liguria non possiamo fare o come dire un doppio salto mortale con avvitamento e passare da una miserevole livello di aggregazione funzionale tra i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta improvvisamente ci inventiamo la casa della comunità ma noi dobbiamo passare per gradi a delle forme di integrazione e a delle forme di integrazione che abbiano come punto di referenza un team che sta seduto in un posto che chiameremo casa della comunità ma che avrà un cammino davanti da percorrere nella migliore dell'ipotesi la casa di salute è come dire se uno va sul autobus numero uno lo prende a caricamento e va sino a Voltri ne incontra sette di insegne come c'è scritto casa della salute sono dei poliambulatori sono dei luoghi dove uno si è inventato uno la giunta la giunta regionale e i distretti e le AS beh quello addirittura io direi che è ancora più grave sapete che qui a Genova abbiamo il privilegio di avere un gruppo di privati che si chiamano casa della salute ma in effetti aggiungono dopo società per azioni quindi quelle case di salute lì sono semplicemente come l'Humanitas che c'è a Milano o il gruppo di San Donato o il Galeazzi cioè è un altro nome per nascondere un'attività privata ma questa la mettiamo un attimino da parte perché è un abuso io direi che lo definirei un abuso adesso parliamo delle case di salute quelle pubbliche della AS che sono a San Piero d'Arena la Fiumara che sono a Sestriponente a Pegli a Pra a Voltri ma a quarto che si chiamano casa della salute ma non hanno un'equipa all'interno che funziona con riunioni settimanali con un direttore che ha i profili sanitari dei pazienti che segue quest'area e che sappia indicare dove avviare l'assistente l'infermiere domiciliare l'infermiere di comunità e via dicendo ecco quindi secondo me il percorso è possibile è doveroso lo dobbiamo pretendere ma non possiamo come facciamo protestiamo protestiamo io io non vedo altra altra soluzione che che protestano a fare la passagina 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 scusate ho dato soltanto un contributo di dichiarimento per la terminologia no nel senso che le nuove strutture di assistenza sanitaria e sociale si chiameranno case della comunità le case della salute erano a parte le certo a parte le inferenze dei privati di quelloro che trasformano usano impropriamente questo termine attualmente noi ci stiamo battendo per le case della comunità la differenza tra la case della salute come aveva previsto la legge del 2010 come diceva il dottor Piotti e le case della comunità previste dal decreto 77 quello che ci ha illustrato il dottor Brasesco questa sera sono legate al patto che nella casa della comunità ci dovrebbero essere anche oltre che i servizi sanitari i servizi sociali i servizi sociali erogati dal comune perché spesso i servizi sociali e i servizi sanitari hanno grandissima necessità di essere di integrarsi di confrontarsi di programmare un'assistenza collaborativa no e quindi giustamente il decreto 77 parla di casa della comunità e quindi è utile che noi impariamo a usare questi termini le utilizziamo propriamente con appropriatezza noi ci battiamo per le case della comunità oltretutto le case della comunità dovrebbero e qui tutti le difficoltà che ci stiamo raccontando questa sera dovrebbero come dire garantire i servizi sanitari e i servizi sociali ma dovrebbero garantire mi scusi signora anche ed è scritto nel decreto la partecipazione della cittadinanza ci dovrebbe essere spazio e lo prevede il decreto 77 perché le associazioni dei cittadini possono contribuire alla gestione all'indirizzo delle case della comunità e quindi diciamo anche questo aspetto dobbiamo tenerlo presente e rivendicarlo allora secondo me noi dobbiamo intanto appropriarci di queste di queste nuove forme di 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 assistenza che ancora adesso non abbiamo non abbiamo presente se noi andiamo in una casa della comunità e troveremo io sono un paziente ex paziente purtroppo come tanti di voi del come del dottor del dottor Brasesco se vado dal dottor Brasesco come ci andavo fino a a due mesi fa tre mesi fa e il dottor Brasesco non soltanto mi garantisce l'assistenza con la competenza di cui è capace ma ha anche la possibilità di appunto come diceva lui di avendo un dubbio e facendomi l'elettrocardiogramma nel suo studio perché lui ce lo faceva di farlo leggere al cardiologo del del distretto o del della ASL presso l'ospedale San Martino San Piero d'Arena perché c'è un'organizzazione di telemedicina che funziona ecco che il dottor Brasesco ha la possibilità di prendere effettivamente in carico il mio problema sanitario senza farmi andare avanti indietro senza perdere tempo in maniera se ha la possibilità che l'infermiere nella sala a fianco mi faccia il prelievo per valutare se la mia creatinina è alta o è bassa e nella stanza a fianco alla sera passa il fattorino che porta il sangue alla sera alla fine della giornata lavorativa e porta il sangue a un laboratorio e il laboratorio manda il reperto in tempo reale quindi immediatamente perché in certi casi certi reperti sono immediati o il giorno dopo ecco che queste cose qua permetterebbero un'assistenza sanitaria territoriale che oggi noi ci sogniamo ma che è possibile è possibile tecnicamente è possibile ci sono delle difficoltà io all'inizio parlavo di tre problemi di finanziamenti e il finanziamento per la sanità pubblica non dovrebbe essere diminuito come si sta facendo in questi momenti ma ha aumentato portato perlomeno alla media dei livelli europei il che è un obiettivo che per esempio come fronte comune per la sanità ci stiamo ci stiamo ponendo di finanziamento di volontà politica perché io non so se effettivamente i nostri cioè i nostri governanti in questo momento sostengono questa nuova organizzazione della sanità territoriale terza cosa c'è effettivamente un problema come c'era qualcuno di voi molti di voi di io lo chiamavo di difesa corporativa del personale sanitario c'è poco da dire io sono stato dipendente della ASR a tempo pieno non ho mai fatto libera professione nella mia vita fino a quando ho lavorato molti miei colleghi fanno la libera professione un medico ospedaliero che fa la libera professione in qualche modo in qualche modo ha interesse al fatto che qualche d'uno non riceva la prestazione perché se lo può ritrovare nel suo studio privato ha pagamento per il cittadino e allora solo il cittadino che può pagare riesce ad avere ad avere la prestazione ecco questo qui io credo che noi dobbiamo tenerlo presente una mobilitazione una presa di coscienza da parte di cittadini dello scopo per cui noi facciamo questa iniziativa lo scopo di questa iniziativa è sensibilizzare la cittadinanza su quali sono i problemi e i problemi lo sappiamo tutti perché li scontriamo e come potremmo affrontarli insieme quali potrebbero essere le soluzioni le nuove forme di aziende territoriale le case della comunità gli ospedali di comunità sono effettivamente a mio modo di vedere ma a modo di vedere di di molti non a caso diceva Dottor Brasesco che da anni si parla di presa in carico dei pazienti di medicina di iniziativa eccetera eccetera dipende quindi la mobilizzazione della cittadinanza è fondamentale io ritengo in questa situazione scusa scusa Antonio vi chiederei io personalmente ancora una precisazione e poi ho tre precisazioni in chat da passare e volevo approfondire un po' di più l'ospedale di comunità Pier Claudio diceva 20 persone quindi servirebbe più case di comunità come 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 programmato come prevista una cosa del genere sempre Maria Teresa hai altre domande? e poi comincio a leggere quelle in chat che però sono due precisazioni possiamo chiudere questa che magari è veloce va bene allora l'ospedale di comunità bisogna che ripescassi un attimo slide comunque non è che serve una casa della comunità serve un territorio comunque mi pare che siano previsti di un ospedale di comunità non è San Martino un ospedale di comunità no 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 è una struttura è paragonabile come struttura a una piccola residenza sanitaria assistenziale 20 posti letto allora ci sono state in Genova due piccole sperimentazioni che sono una al Galliera dove è stato strutturato un reparto diciamo gestione infermieristica prevalente e una alla Doria all'istituto Brignole a Struppa mi pare che ne stiano facendo una all'ex ospedale psichiatrico quello non lo so però diciamo che l'ospedale di comunità si chiama così ma non è un ospedale come lo intendiamo noi è una struttura dove ci sono assistenza infermieristica H24 la parte diciamo chiamiamo l'alberghiera c'è la consul c'è c'è un medico che può essere il medico di famiglia o può essere invece un medico strutturato in ospedale di comunità che si occupa di questi 20 queste 20 persone che sono temporaneamente ricoverate perché c'è anche una una tempistica diciamo esatto non sentiamo si Bruno sta dicendo o vengono dall'ospedale cioè o vengono dall'ospedale perché vengono dimessi ma non sono ancora in grado di in condizione di tornare a casa oppure viceversa anziché andare in ospedale come facevo ad esempio di prima vengono ospitati per cure un po' più intensive o un pochino più problematiche da fare a domicilio infatti era interessante l'esempio che avevi fatto prima della polmonite devo dire che anche qui ospedale comunità io sapevo che c'erano e credo che ci siano ancora sempre nella solita Emilia Romagna Toscana sono decenni che ci sono degli ospedali comunità e ce ne sono anche alcuni proprio gestiti in prevalenza da 20 famiglie ma sono delle perle rare vuoi passare a leggere vado con la chat allora la prima è più una denuncia la ricetta rossa sarebbe superata in tutta questa riorganizzazione perché al momento per certe cose per esempio il trasporto di non diambulanti comporta tre viaggi tra la casa del non diambulante e il caregiver vado avanti rispondo subito questa è una delle assurdità più assurde che esistono nel senso che si fa una richiesta per un trasporto in ambulanza per una persona che quindi non può muoversi e cosa si dice che bisogna portare la ricetta rossa distretta a farla firmare cioè non esiste proprio bisogna portare la ricetta rossa scusa non l'abbiamo sentito certamente dovrebbe essere più che superata ma anche adesso è superabile questo e basterebbe un po' di buona volontà dicevi non sentiamo sì 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 la signora dice anche la richiesta dell'ossigeno giustamente ci sono anche alcuni farmaci speciali diciamo così che ancora sono sottoposti a ricetta rossa sinceramente non so dirvi perché non l'ho mai capito naturalmente dovendole fare l'ho dovuto fare rosse però diciamo che la ricetta elettronica addirittura adesso dematerializzata in senso vero perché come sapete potete sottoscrivere un'autorizzazione in qualsiasi farmacia a utilizzare la vera dematerializzata cioè non più stampata ma neanche inviata per sms come con tutti i codici eccetera ma semplicemente dal momento in cui il medico di famiglia invia la ricetta al sistema regionale questa arriva in un come dire in un deposito delle ricette a cui qualsiasi farmacista della regione può accedere su richiesta dell'interessato che si presenta col suo codice fiscale e quindi dai suoi dati per poter accedere questo per fortuna diciamo penso che sia neanche un anno che è così perché prima c'è dopo il covid cioè con il covid ecco è un altro esempio col covid il sistema comunque della ricetta dematerializzata nel senso che non si doveva più passare dal medico di persona e lì c'era il problema che non si doveva creare assembramenti nello studio eccetera allora di punto in bianco sono riusciti come mai era una cosa che era già lì pronta da anni sì ma non è definitiva eh come? non è definitiva beh dici che non è definitiva perché ogni tanto esce fuori perché è stata prorogata l'anno scorso alla fine dell'anno è stata prorogata nel mille proroghe quindi va riprorogata o deliberata definitivamente a fine anno sì sì beh penso che non ci sia potrebbe ancora tornare alla pazzia di prima sì no beh ma quello a quel livello di pazzia penso che non ci arrivi nessuno posso leggere la seconda sì leggi la seconda domanda non esiste continuità di cura né assistenza domiciliare adeguata per i pazienti con patologie pediatriche che diventano maggiorenni ad esempio le paralisi cerebrali infantili è una grave carenza perché il numero di questi ragazzi che prima non arrivavano alla maggiore età sta aumentando in modo esponenziale possiamo dire qualcosa? non è una domanda ma è un come dire un appello però sì se ci sono altre persone che in sala vogliono intervenire qui io ne ho ancora due sì vai le farmacie dei servizi per cui è già stato completato il corso di formazione per 200 farmacisti andranno a effettuare quegli esami base che dovrebbero essere fatti nelle case SPOC considerata la tempistica può significare che di fatto i punti SPOC non partiranno vuoi per le resistenze dei medici in medicina generale vuoi per la loro carenza vuoi perché non sembra sia stata tracciata neanche sulla carta una mappa di come dovrebbe svilupparsi la rete territoriale mi sembra che l'impianto che stanno costruendo sia assai diverso da quello che dovrebbe essere la medicina territoriale basata su hub SPOC e lavoro di equip intanto si continuano a spostare fondi pubblici verso il privato ed è potenziare la sanità pubblica e anche questa non è una domanda ma non è una domanda è un commento che mi sembra abbastanza appropriato sicuramente diciamo questo il discorso delle farmacie territoriali secondo me ha anche un senso che siano integrate nel sistema anche di più di come lo sono adesso però qui invece si pensa appunto come dice chi ha scritto la domanda anche a una farmacia di servizi che in parte si sostituisce a quello che dovrebbe essere il medico di famiglia nella casa della comunità SPOC sì sì a mio sapere diciamo diciamo che in questo autunno dovrebbe essere venire fuori qualche 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 idea più precisa da parte della regione su cosa vogliono fare quello che che so è che diciamo i finanziamenti europei di cui parlavamo all'inizio sulle case della comunità sono finanziamenti vincolati a certi parametri quindi però in Italia siamo abituati ai miracoli cioè a riuscire a trasformare trasformare un progetto in un altro progetto facendolo passare per il primo progetto dici l'ultima l'ultima dice ma la protesta non dovrebbe iniziare dai medici il paziente vede il problema e difficilmente vede la soluzione ha anche la soluzione il maggiore problema mi sembrano i medici i medici sono cittadini come gli altri quindi ci sono quelli che procedono l'ordine dei medici sì sì non sentiamo ripeti la domanda chiede se tutti gli ordini dei medici fanno qualcosa diciamo che al momento poco poco si vede poco io non ho altro volevo solo dire una precisazione già che ho la parola che il decreto ministeriale 77 del 26 giugno 22 è sul sito dello Zenzero se qualcuno volesse approfondirselo nella pagina nel calendario nella pagina di oggi io ho alzato la manina se potessi dire qualcosa lei che viene dall'Emilia Romagna e già ci esistono queste realtà di case di prossimità diciamo quelle le perle rare a cui si riferiva come sono state create da chi è stato chi è stato il promotore e attivatore io penso che dobbiamo imparare dall'Emilia Romagna e dalla Toscana perché sono partiti prima allora in questo caso dell'Emilia Romagna le case di salute che diventeranno ovviamente case della comunità se sono 84 è probabile non facciano altro che ampliare le proprie funzioni e diventare case della comunità 84 sono dovute a due decreti della regione 2010 e 2016 diciamo la giunta la giunta regionale ha fatto due decreti in legge regionali che davano il primo quello del 2010 una serie di parametri di tipo organico capienza numero di servizi architettura diciamo come fossero delle linee guida per organizzare fisicamente da un punto di vista architettonico le case della salute quella del 2016 invece entra nell'ambito della funzione quindi la presa in carico la medicina di iniziativa i percorsi assistenziali i profili di rischio e le raccomandazioni conseguenti al personale medici infermieri attenti sociali psicologi e via e gli dai il microfono per piacere Bruno scusami hai detto hai detto dai il microfono ma ovviamente io io non sono dell'Emilia Romagna e non posso dire come hanno funzionato se non di fronte però evidentemente essendo in contatto le persone dell'Emilia Romagna loro lo ritengono un esperimento complessivo molto c'è una richiesta di intervento se nel 2010 hanno deciso di costruire le case ma soltanto nel 2016 hanno deciso come organizzare il lavoro dentro io così ho capito responsabilità mia che ho visto i due decreti come se fossero separati completamente ovviamente no ovviamente il 2010 già indicava delle funzionalità e dei servizi ed era specifico al dettaglio però prevalentemente si occupava di disegnare e poi quello del 2016 non parla più di architettura e quindi in questo senso è un superamento e parla solo di funzionalità però ovviamente già nel 2010 sì nel 2010 avevi credo che qualcuno dei prossimi incontri ci sarà qualche testimonianza di questo esatto vi ripeto ho una richiesta di intervento chiediamo di scrivere o non lasciamo parlare Luigi che ha chiesto la parola scusami abbiamo deciso che facciamo gli interventi dalla sala online chi vuole scrive e fa presente il suo problema il suo tema l'argomento di cui io non scrivo se mi fate parlare parlo se no grazie siete stati bravissimi ho la parola posso dire due parole allora facciamo l'eccezione per Luigi Fascia grazie però per favore sii breve dai lo sai che sono lungo caro Bresasco io sono uno che nel 78 c'era non sei l'unico e non sono l'unico però voglio dire anche prima il comune e la provincia avevano competenze miste perché la provincia aveva la salute mentale e il comune aveva l'assistenza i due assessori sono messi d'accordo e hanno fatto un servizio se lo sono inventate però questo servizio è poi entrato nel servizio sanitario nazionale e sono entrato nelle nel 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 consultore familiare prima nella provincia misto e poi finalmente nella ASL 13 ecco sono sconsolato a partire da questo gli esiti sono funesti però c'è un nesso questa benedetta e direi che il il bandolo della matassa che noi possiamo svolgere è giusto questo benedetto decreto 77 perché almeno lì se si potesse fare un piccolo non dico manualetto un opusculetto precisando quello che si dovrebbe fare e da dove partire in questo guazzabuglio di sigle di robe sarebbe a me a mia parera come psicologo per la nostra comunicazione interna esterna io ho imparato delle cose che che non ero al corrente non ero aggiornato sono su altri fronti sono sulle comunità energetiche insomma applauso a chi ci ha fatto il punto e quindi auspico questo e il terzo incomodo forse il secondo non lo so ma vediamo sempre il comune avete parlato di integrazione di socio sanitario ma vogliamo oltre a mogognare in regione possiamo aprire un fronte con il comune che praticamente l'assistenza ai servizi sociali non esistono e sono tutti affibbiati al terzo settore spappolati con delle cose incredibili anche una mappetta dei servizi sociali come si stanno svolgendo in comune perché è necessario sapere quel caravan serraglio che c'è lì dentro come lo facciamo a infilare dentro alle comunità di salute lì comunità quella lì quindi direi che e poi una battuta veramente incredibile la questione dell'intramenia questo è un cancro i due punti dove noi dobbiamo insistere verso il sindacato il CCL quello che sarà quelli che si occupano della sanità di puntare a togliere questa ignominia che non l'ha fatta il centrodestra l'ha fatta la 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 nostra che adesso passa per l'estrema sinistra la Bindi la Rosa Bindi io c'ero anche lì ero a centropianco d'organo dell'ospedale San Martino quindi ma la ricordo bene e vabbè insomma siamo nella bratta e vediamo di tenerci insieme vedere un po' di avere i punti diciamo di debolezza e cercare di rimediare sulla comunicazione vi ringrazio è stato rapido grazie Luigi allora c'è la parola a Paola che ha chiesto di parlare ma sì vieni davanti alla telecamera Paola sì sì dov'è? dove c'è Francesco? di qua va bene arrivo allora mi ha sollecitato la signora che prima diceva ma cosa facciamo cosa possiamo fare che è sempre una cosa importante da stabilire direi e visto che la regione sarebbe bene che avesse un po' di fiato sul collo rispetto alla realizzazione di queste possibilità visto anche che è previsto all'interno una gestione partecipata quindi mi domandavo cercare di sentire che possiamo fare qualcosa che può dare una mano che può spingere perché non proviamo come era successo ai tempi dei consultori a chiedere di costituirci in comitati di autogestione come non so se qualcuno di voi di pregestione quando sono nati consultori a Genova io c'ero io c'ero c'eravamo in tanti anche io c'ero chissà quanti di quelli che sono qui presenti che c'erano e allora l'idea è perché facciamo un atto di autocostituzione in comitato di pregestione e incalziamo la regione affinché su questa cosa si possa costruire cominciare a costruire una pressione più insomma se saremo in grado di farlo ma visto le presenze di stasera e visto anche la sensibilità che c'è su questi temi ci sono altri che ne discutono oltre a noi io la butto lì ci possiamo invitare e capire se ha un senso e se si riesce a dare ottimo Paola è arrivato un commento in chat ottimo Paola possiamo fare una richiesta di tutti i presenti di chi è interessato a fare parte di un eventuale comitato di pregestione e poi vediamo insomma lì il percorso lo costruiamo piano piano benissimo grazie allora Antonio vai a chiudere potete venire perché se no non riusciamo Claudio viene un po' davanti vorrei fare una brutta figura perché io ho perso i primi dieci minuti e poco fa dicevo a un'amica che era vicino a me se ne è parlato dalla privatizzazione ne avete parlato penso all'inizio vabbè allora però voglio dire questa cosa che mi sembra bellissima e riuscitissima quindi complimenti a chi l'ha voluta fare è ha uno scopo tutto in forma allora mi pare che in questo scopo bisogna capire che i problemi di sanità di cui parliamo sono pieni di afferenze tecniche militari eccetera eccetera ma anche di questioni politiche perché non in tutta Italia cioè le cose vanno abbastanza male in tutta Italia ma in alcune regioni vanno peggio questa è una delle regioni in cui vanno peggio perché noi non siamo solo la Sicilia siamo una dependence della Lombardia e stiamo seguendo chiedo scusa per la parola dependence che è straniera ma forse capirete stiamo seguendo quel modello che è un ma che cambia anche la testa alle persone perché un sacco di cittadini non non comprendono più che questo è un problema dicono a me basta che mi curino se poi il privato è così furbo che lo cura senza chiedergli tanto di più anzi addirittura qualche volta gli chiede pure di meno uno dice vabbè allora che problema c'è se è privato peccato che quel privato lo paghiamo poi tutti insieme in un altro modo questa è una cosa elementare ma purtroppo non passa nella testa della società delle comunità eccetera eccetera noi abbiamo un presidente allora qualche tempo fa qualche mese fa più sui giornali sono uscite interviste del presidente della giunta regionale che diceva ma non si può potenziare il servizio sanitario pubblico perché così si penalizzano i privati allora se questa è e quello non era un industriale era il presidente della giunta regionale allora io credo che chi di voi ha qualche informazione anche io ho qualche informazione in più anche che si occupa di questi problemi anzi dovrei anche fare una sponsorizzazione del fronte comune Ligure per la difesa della sanità pubblica ma è stato già fatto sì di fatto ho detto non lo faccio perché so che è già stato fatto però credo che cioè io mi auguro che chi va a casa oggi ne sappia di più su cosa può essere o cosa dovrebbe essere una casa di comunità ok o c'è una reazione collettiva su come stanno andando le cose oppure tra qualche tempo e già adesso ma sempre di più ci troveremo soprattutto chi ha meno possibilità in enormi difficoltà ma non di arrivare prima o dopo a un pronto soccorso di curare oggi qui ci sono già tante decine di persone senza offesa per nessuno con un'età media che anche se di poco è inferiore se è anche inferiore è un'età e questo è un grandissimo problema perché sembra che gli under 40 hanno minimamente della loro salute e del futuro della loro salute di là di questo secondo me bisogna come dire fare il più contaminazione porta a porta su quello che sta succedendo grazie c'era un'altra persona mi sembrava grazie allora se non ci sono altri interventi io vi direi dei prossimi appuntamenti ti condivido la diapositiva Antonio bravo mettici la diapositiva così la posso presentare così la puoi raccontare allora intanto vi dicevo che il prossimo incontro sarà presumibilmente il 18 di ottobre e avremo con noi il dottor Andrea Zurlini responsabile della casa delle comunità di Parma che speriamo ci possa aiutare a capire se le case della comunità riescono laddove sono sostenute da dalle istituzioni da dalla cittadinanza eccetera a dare una migliore risposta ai bisogni di salute dei cittadini seguiranno poi un incontro specifico nel mese di novembre destinato specificamente al ruolo del medico di medicina generale all'interno delle case di comunità perché noi sicuramente riteniamo che ci deve essere la figura del medico di fiducia che si prende carico e diventa il diciamo come dire l'unificatore il coordinatore dei bisogni di salute del proprio paziente e del proprio assistito e infine un incontro dedicato in dicembre all'infermiere di comunità o all'infermiere di comunità che ormai come diceva il dottor è stato istituito dovrebbe essere una figura presente in ogni ogni 3.000 residenti e che dovrebbe garantire moltissime cose ma soprattutto una delle quali in particolare l'assistenza domiciliare ma avremo lì in quell'incontro degli infermieri molto in gamba che ci illustreranno questa cosa io vorrei ringraziare quelli che ci sono fare presente una seconda volta perché l'avevo detto prima che a breve probabilmente nella settimana prossima ci sarà la conferenza una conferenza stampa di presentazione unico per la difesa della sanità pubblica che si chiama e già si chiama e già è già stata fissata per il 28 che si è preso proprio il compito di coordinare le forze di cittadinanza attiva sindacali e politiche disponibili a sostenere la battaglia per la sanità pubblica di cui uno delle cose scusami Claudio anche questo qui l'avevo l'avevo detto prima però Claudio per la prossima volta vieni in orario abbiamo sentito no dicevo che però il fronte comune si sta ponendo l'obiettivo di una manifestazione pubblica di piazza per cioè in cui con forza oltre alla proposta che diceva che ci diceva Paola di costituire dei comitati di gestione di cosa c'è anche la necessità di riuscire a dar a dar vita a dar visione visibilità a questo malessere della cittadinanza per cui speriamo di riuscire speriamo di trovare tante forze in grado di tutti insieme di sostenere questa battaglia colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti voi per ringraziare in particolare il dottor Brasesco che tra l'altro avremo al fianco nell'organizzazione di tutto il ciclo di incontri e che sicuramente sarà qui con noi nell'incontro a cui parleremo specificamente del medico di medicina generale in cui ci saranno anche dei giovani medici di medicina generale con cui confrontarci grazie a tutti e buona serata grazie a tutti